Ho paura del test d'ammissione. Per quanto riguarda il test di economia in realtà non è un test così difficile, anche perché non ti chiede competenze specifiche sull'economia, ma ti verranno chieste domande di logica, matematica o compressione del testo, quindi sono competenti di base che uno studente di liceo o di qualsiasi altra scuola superiore ha. Le domande comunque sono tutta una serie di modi per prepararsi al test, tutta una serie di simulazioni. Poi siamo fortunati perché a Udine ed Economia ci sono tantissime date, se non passi la prima ci sono tante opportunità per passare anche più avanti. In realtà non ci sono grosse preoccupazioni con il test di economia. A presto!